Italia Viva avrà la sua rappresentanza in consiglio regionale. Il mio percorso politico prosegue con il terzo polo. Nei prossimi giorni ufficializzerò la mia iscrizione, ha dichiarato Massimiliano Stellato, consigliere regionale della Puglia, eletto con i popolari, che ieri ha annunciato il passaggio all'opposizione. A giorni Stellato incontrerà Matteo Renzi, che già nelle scorse elezioni aveva schierato contro Emiliano Ivan Scalfarotto. Con l'adesione alla linea politica di Italia Viva è contestuale la mia presa di distanza dal governo regionale, ha spiegato Stellato. Si riduce ulteriormente così la rappresentanza di una delle liste che avevano riscosso maggiori consensi alle regionali. Adesso restano solo i consiglieri Lanotte e Stea, assessore anche al personale. Senza contare che inizialmente questa lista era di riferimento anche per Massimo Cassano, discussa guida di Arpal, che si era candidato invece alle politiche con azione di calenda. Un passaggio che però lo stesso Stellato ha precisato non essere assolutamente collegato con il suo transito verso Italia Viva. Il mio posizionamento riguardo soprattutto alla linea politica del partito sarà delineato nel corso dell'Assemblea nazionale che domenica sarà celebrata in quel di Milano e quindi a seguire proporrò ovviamente il mio posizionamento che sarà di una minoranza leale, costruttiva, che affronterà i temi utili ai pugliesi. Sarò in minoranza rispetto al governo emiliano, sarò invece in maggioranza insieme ai pugliesi.